benvenuti alla guida completa di terraria journey's end ovvero la versione 1.4 e tutte quelle successive per quanto riguarda gli sviluppatori sono gli ultimi che avranno un grosso impatto sul gioco e quindi questa guida sarà completa anche per il futuro questa guida viene fatta tramite la versione pc scaricabile tramite steam però è adatta tutte le console e anche le versioni mobile che hanno la versione 1.4 l'unica se dovrete manualmente controllare i comandi del gioco tutto qui ma partiamo col dire cos'è terraria per chi non lo conoscesse sono convinto che voi siete abbastanza familiare con il gioco di minecraft e terraria è all'inizio molto simile dovremo fare le stesse cose raccogliere risorse basiche come legno e pietra e sopravvivere ai mostri e alla notte soprattutto il gioco però da lì cambierà totalmente inizierà a svilupparsi sui potenziamenti degli accessori delle armi e svilupparsi anche a livello di combattimento sulle tre classi principali del gioco guerriero ranger stregone o mago come volete evocatore iniziate a spulciare le impostazioni per i controlli base in particolare controllate la risoluzione del video e vi consiglio anche andare nel cursore ed implementare un bordo e colorarlo in modo che sia più facile da vedere a sì se cliccate sul sole potete fare questo nel menu e vabbè vabbè l'ultimo consiglio prima di iniziare se siete abbastanza afferrati nella lingua inglese vi consiglio di utilizzarla per questo gioco poiché la traduzione italiana è molto povera e mancano alcuni termini e alcuni sono stati tradotti male ma per ora utilizzeremo la versione italiana per questo tutorial ok possiamo iniziare con il giocatore singolo e qui abbiamo la creazione del personaggio create nuovo e abbiamo subito il primo errore della traduzione italiana come vedete ma vabbè potete personalizzare il personaggio e dargli un nome lo chiameremo tutorial potete personalizzare il personaggio come volete io per il momento salterò questa fase cliccando sul tasto casuale ok è uscito questo buon tempone i personaggi possono essere di quattro tipi per ora ignoreremo viaggio perché abbastanza complicato abbiamo principalmente classico medio e difficile non fate ingannare della traduzione fatta male poiché queste non sono le difficoltà del mondo incontriamo a giocare ma solo delle modalità particolari per personaggi ovvero classico madonna quanto è brutta sta cosa qua non si può vedere è la modalità principale del gioco in cui rilasceremo parte delle nostre monete perché sì c'è una valuta in questo gioco per comprare oggetti dai png ma ci sono meno elementi survival tipici di minecraft gli oggetti non hanno durabilità non avremo una barra della fame e non dropperemo gli oggetti quando moriremo nella modalità medio invece i giocatori rilasceranno gli oggetti quando muoiono esattamente come minecraft mentre da difficile è in realtà la modalità hardcore di minecraft in cui la morte è permanente vi sconsiglio caldamente utilizzare la modalità medio e difficile in quanto terraria non è adatto a questo tipo di gioco è molto più improntato sul combattimento e nemici forti e moriremo molto più spesso ripartiamo con classico dove aver creato il nostro personaggio andiamo su gioca e dovremo anche trovare un mondo per lui creeremo uno nuovo qui possiamo dargli il nome o possiamo randomizzarlo ovviamente anche qui la traduzione italiana è pietosa il seme funziona esattamente come il sito di minecraft quindi potete giocare a mondi simili se avete lo stesso sid per ora ignoratelo potete poi scegliere la dimensione del mondo vi sconsiglio il mondo grande poiché è effettivamente grande e vi renderà gioco un po più noioso nelle primi parti del gioco il mondo piccolo anche dei problemi essendo molto piccolo i mostri del cielo verranno attaccarti anche quando non siamo necessariamente troppo in alto e avremo biomi complicati più vicini alla nostra casa che al centro del mondo vi consiglio infatti utilizzare il mondo medio che alla fine non ha grossi problemi come avrete capito da soli i mondi non sono infiniti come a minecraft ma sono rettangolari principalmente e non ci spaveremo sempre al centro qui abbiamo la nostra difficoltà del mondo nuovamente ignoriamo viaggio per il momento vi consiglio quindi la modalità classica che è quella normale nella modalità esperto nemici saranno più difficili ma i boss ci dropperanno anche un oggetto in più solitamente un accessorio molto forte la maestra aumenta ancora di più la difficoltà dei nemici e ci premierà con qualche trofeo o cosmetica non particolarmente interessante oltre ai vari biomi classici come deserto ghiaccio e giungla abbiamo anche un bioma nemico e questo è casuale può essere o corruzione o cremisi potete scegliere voi quale utilizzare per il vostro mondo per il momento non è molto importante quindi andate in casuale ora possiamo creare e come vedete qua dalla creazione del mondo cioè questa piccola barra di caricamento questa parte sinistra è viola che vuol dire che ci ha generato la corruzione anziché della crisi ok il mondo è pronto adesso possiamo anche a rinominarlo così possiamo rinomere anche i personaggi lo chiameremo tutorial ora abbiamo scelto personaggio e mondo siamo entrati dentro il gioco prima cosa che faccio però andare nelle impostazioni attivare la pausa automatica questa si attiva perché così il gioco va in pausa appena apriremo l'inventario lo sto facendo solamente per farvi vedere come funziona l'inventario prima di iniziare effettivamente il gioco abbiamo qui la nostra hotbar e genereremo ogni mondo con una spada corta di rame un piccone di rame e un'ascia di rame come vedete alcuni di questi hanno un colore diverso e un modificatore grande per il piccone e appuntito tutto questo è casuale i modificatori danno quei bonus in verde che vedete sotto la descrizione in questo caso appuntito dal 20 per cento di danno mentre granati dal 12 per cento di dimensione tutto il resto la descrizione normale dell'arma la spada corta di rame fa 6 danno in maiuscolo e al singolare perché traduzione da mischia ovvero fa parte della classe del guerriero abbiamo anche il 4 per cento di usibilità di critico extra velocità e ovviamente tradotto male intendo dire che l'arma è molto veloce anche spintone debole non si capisce bene che vuol dire sarebbe il contraccolpo in questo caso non è un gran che l'oggetti con la scritta materiale sono molto importanti perché vuol dire che possono combinarsi con altri oggetti per crearne altri nel classico sistema di crafting simile anche a minecraft e come vedete anche il 35 per cento potenza piccone questa potenza sta a indicare quali oggetti potete rompere con quali strumenti ma non è molto chiaro in generale vi consiglio andare per tentativi ed errori scavate quello che potete appena avete uno strumento che non riesce a scavare un particolare blocco portatene uno più potente meno uno portata perché questo piccone non è molto forte e possiamo raggiungere un blocco in meno rispetto a molti altri picconi basici l'ascia è molto simile però ha potenza ascia e ovviamente taglia gli alberi avete altre opzioni qua poco importanti il righello forse è un po' più importante perché deve mettere di misurare i blocchi l'inventare come vedete è molto grande abbiamo il cestino abbiamo anche quattro spazi per le monete che si dividono in monete di rame argento oro e platino abbiamo anche quattro slot per le munizioni per le armi da distanza questo tasto avrà la finestra delle animazioni non servono assolutamente a nulla il bestiario invece abbastanza importante ogni volta che incontrerete nuovi png o mostri o boss verranno sbloccate le loro entrate del bestiario questo tasto sistema il nostro inventario in maniera organizzata mentre la gruppa subito nelle casse vicine permette di spostare tutti gli oggetti che sono già presenti nelle nostre casse dall'inventario direttamente in quelle specifiche casse abbiamo qui 100 punti vita e 20 punti di mana questa è la minimappa e possiamo modificare i bordi di tutte e tre queste cose qui possiamo ingrandire o diminuire la dimensione della minimappa e che possiamo spostare la minimappa togliendola oppure mettendola a schermo intero o come volete potete però alternare queste opzioni proprio nel tasto tab infine abbiamo l'armatura e gli equipaggiamenti innanzitutto questo scudo indica la nostra difesa totale qui abbiamo modalità telecamera la ignoreremo per ora e qui sono gli slot per i colori o tingere comincia la traduzione italiana e non sono neanche importanti slot vanità estetici sono gli elementi che vedremo sul personaggio ma che non andrà nessun bonus quello che invece è importante sono gli slot per armatura casco camicia pantaloni abbiamo anche cinque slot accessori e questo piccolo occhio permette di renderlo visibile o nascosto nello slot equipaggiamento abbiamo cinque accessori in più che sono il compagno un animaletto che ci segue senza far nulla compagno luminoso che è un compagno separato ma che proviene un po di luce il minecart che anche se qui non è selezionato in realtà ce ne abbiamo già uno basico di legno la cavalcatura e il rampino per agganciarci ovunque anche qui abbiamo l'opzione di colorare questi oggetti nella sezione impostazioni potete controllare i comandi del gioco in questo caso se siete da con da console mobile potete effettivamente controllare tutti i tasti che volete disattiviamo la passo automatica iniziamo a giocare come prima cosa prendete la vostra ascia iniziamo a tagliare alberi a differenza di minecraft vi consiglio di tagliarli dal basso perché cadranno tutti quanti in giù ogni tanto gli alberi cadranno oggetti come monetine quindi non fateci caso a volte anche della frutta premendo il tasto controllo dalla tastiera attiveremo il selezionamento automatico questo nella versione console ci permette di mirare automaticamente l'oggetto più importante che possiamo scavare con l'accessorio lo strumento equipaggiato gli alberi rilasceranno anche le ghiande che potranno rigenerarsi in alberi utilizzando il cursore automatico possiamo anche posizionare ad una distanza tale che gli alberi possano crescere normalmente ma abbiamo qui anche il nostro primo nemico perché escono anche di giorno e abbiamo uno slime verde possiamo utilizzare la spada corta che mira nella direzione del cursore per eliminarlo gli animali come i conigli non servono niente avrete anche notato che c'è un png la guida si spavano ogni volta che generi un mondo e cliccando il tasto aiuto ti darà dei consigli quindi se vi siete persi chiedeteglielo ma seguite sta guida che è meglio nel reparto creazione oggetti però questo dovrete utilizzarlo molto spesso potrete consegnare alla guida un oggetto con il tag materiale ad esempio utilizzo la gelatina che è stata droppata dallo slime e ci darà tutti gli oggetti che possiamo craftare utilizzando la gelatina o con questo bottone a forma di martello li possiamo vedere in maniera un po' più comoda e ti dirà come farlo e che oggetti sono richiesti per poterlo fare i png sono anche armati e ci difenderanno o meglio si difenderanno da soli non sono molto forti ma all'inizio la guida ci può aiutare visto che è provvista di acqua e freccia raccogliete la gelatina dagli slime perché è abbastanza importante ma ora vediamo un'altra cosa ed è quella della creazione delle case qui sono molto più importanti rispetto a minecraft in quanto hanno proprio uno scopo che è quello di ospitare i png ah sì la terra è scavabile con il piccone e anche la legna una volta che la posizioniamo va scavata con il piccone questo per differenziare i blocchi dagli elementi di sottofondo come gli alberi che sono solamente scavabili con l'ascia grazie al 1.4 abbiamo il block swap ovvero anziché rompere un oggetto per piazzarne un altro possiamo direttamente sostituirlo se il nostro piccone ce lo permette e questa cosa è molto utile per costruire quindi dove aver costruito una base facciamo una piccola scatola e come vedete quegli oggetti che abbiamo nell'inventario come legno e gel possiamo creare diverse cose le piattaforme, le torce e il banco da lavoro questo è il classico workbench utile anche a minecraft basterà posizionarlo e se ci stiamo vicini abbiamo tutte le opzioni sbloccate di default non dobbiamo unire oggetti in nessun modo, possiamo farlo automaticamente creiamo quindi una porta con 6 blocchi di legno e una sedia con 4 le posizioniamo poi possiamo fare delle torce, non abbiamo bisogno di essere vicino alla workbench e basano solamente un gel e un pezzo di legno per farne 3 e mettiamo un paio dentro casa infine, visto che la casa è un po' vuota creiamo anche delle mura i blocchi possono essere alternati da una workbench per creare delle mura ogni blocco ne fa 4 ne creiamo un po' e utilizzo lo smart cursor, il cursor intelligente, per posizionarla in modo rapido come vedete se no manualmente dovete indicare voi dove chiaramente ok, la casa ora ha delle mura ha dell'illuminazione ha un tavolo che va bene sia una workbench o un tavolo normale e una sedia ha anche una porta quindi questa dovrebbe essere un'abitazione abitabile per il nostro PNG la guida però prima che si impazzisce fammi meno a sti slime possiamo anche creare le piattaforme quando siamo lontani da una workbench questi sono dei mini blocchi che ci permettono di passare sopra e saltarci quindi questo ci permette di navigare in modo molto facile clicchiamo ora il tasto alloggio come vedete la guida si è già autossegnata in questa casa perché questa casa è vivibile con il tasto valutazione alloggio potremmo capire se un alloggio è occupato, libero o ci sono dei problemi i criteri per rendere un alloggio vivibile sono quelli che vi ho appena mostrato ma se volete delle specifiche più importanti aspetta che la guida è in pericolo se volete informazioni più specifiche per come costruire delle case ho fatto uno short tutorial che potete vedere adesso nel link che vi sto mettendo nelle schede ok vedete anche degli slime palloncino perché c'è il vento ci sono anche le coccinelle che lo indicano ok anche gli eventi atmosferici condizionano i mostri che si generano o anche gli animali selvatici partiamo dall'esplorazione scegliete una direzione destra o sinistra e andiamo a vedere se torniamo delle caverne naturali abbiamo il legno ma ci serve ancora la pietra che è molto importante per molti oggetti piccolo consiglio alcuni oggetti come vedete sono anche munizioni il gel in particolare è utilizzato dai lanciafiamme quindi siccome la gelatina è anche una munizione possiamo inserirlo nello slot munizioni per risparmiare uno slot nell'inventario prendiamo anche i funghi i funghi come vedete sono consumabili e ripristano 15 unità di vita e sono anche dei materiali come vedete noi non abbiamo la vita al completo per utilizzare una pozione di cura basta premere il tasto H della tastiera o quello indicato nella vostra console e automaticamente utilizzeremo una pozione o un oggetto di cura raccogliete anche i fiori in giro questi sono i fiori di giorno che dropperanno anche dei semi sono le piante alchemiche queste verranno utilizzate e potremo anche coltivarle per delle pozioni man mano che andremo avanti nel gioco ok abbiamo un ostacolo un po' alto anche qui ricordate che avete le piattaforme o potete semplicemente scavare abbiamo anche dei girasoli i girasoli sono particolari sia perché non sono stati tradotti e sono rimasti sunflower non so perché ma una volta che sono posizionati aumentano la velocità nell'area intorno a noi quindi sono particolarmente utili ok abbiamo trovato qui un vaso gli vasi possono essere rotti e troviamo dei loot basici come ad esempio la pozione curativa che ripristina 50 punti siccome abbiamo il fungo nell'inventario adesso quando utilizzeremo il tasto H utilizzeremo il fungo per riprendere vita se invece lo sostituiamo siccome adesso è più vicino nell'inventario al tasto 1 è più vicino utilizzeremo questo allora siccome si fa notte e vorremmo evitare di essere agguantati da zombie e quant'altro proviamo ad andare sottoterra però ci servono un po' più di torce ne facciamo altre ecco qua possiamo anche illuminare quando ce l'avremo insieme attenzione perché c'è il danno della caduta che però è abbastanza buono non è troppo punitivo ok questa sembrava un'entrata a una caverna ma non sembra portare molto lontano purtroppo come vedete ci sono delle mura ad erba in questa grotta sono molto utili perché ci permettono di posizionare le piattaforme come ci pare per poter esplorare meglio abbiamo appena trovato la corda le corde sono anche queste molto importanti per l'esplorazione iniziale perché possiamo posizionarle e ci possiamo agganciare come vedete prendendo il tasto sopra ci auto agganciamo a una corda e possiamo scavaccarla ok abbiamo la nostra prima cassa guida il cordame con fibra vegetale consente la raccolta di viticcio delle vini vabbè sarebbero rampicanti però il gioco ovviamente traduzione fa schifo una volta equipaggiato come vedete queste rampicanti possiamo romperli per prendere il viticcio e funzionano esattamente come le corde quindi per il momento sono anche cose buone abbiamo 4 granate che fanno il santo danno boomerang dio santo sarebbe il danno a distanza le granate sono molto forti ma attenzione perché ci faranno molto male se ci becchiamo noi stessi 47 frecce di legno non male 4 pozioni di leghiamo questa ci permetterà di teletrasportarti nuovamente a casa ottimo perché già si sta facendo notte e nel dubbio potremo teletrasportarci una pozione pelle di ferro che aumenta per 8 minuti la difesa di 8 punti che è molto buona infatti questa la terremo per i boss e 13 torce mi raccomando raccogliete anche la cassa abbiamo il nostro primo materiale qui ce ne sono 4 principali che sono il rame il ferro l'argento e l'oro ma ognuno di questi può essere sostituito da una sua versione un po' migliorata rispettivamente lo stagno tradotto per qualche motivo come latta il piombo il tombsteno e il platino continuiamo ad esplorare ma mi raccomando raccogliamo un po' di pietra perché ci servirà per creare una fornace in questo momento la musica mi sta indicando qualcosa questa è la musica del deserto ci stiamo avvicinando al bion del deserto ma per il momento bene così ok sta arrivando uno zombie con uno slime in testa a quanto pare si ci sono delle diverse versioni di nemici premendo tante volte il tasto sinistro però riusciamo a gestirlo siccome conosco abbastanza il gioco non ho creato altre armi però possiamo fare tranquillamente crea un altro banco di lavoro temporaneo da utilizzare qui come vedete possiamo utilizzare legno per creare anche una spada la spada non è come la spada corta ha una funzionalità diversa come vedete funziona come gli strumenti quindi è ad arco io onestamente preferisco la spada corta sono uno dei pochi che la preferisce importante però con 10 pezzi di legno potremmo fare un arco l'arco è abbastanza forte non va caricato clicchiamo e spariamo la freccia e possiamo creare 25 frecce di legno semplicemente con un legno e un blocco di pietra infatti ne possiamo fare un bel po' già adesso possiamo anche utilizzare 10 corde per creare una bobina di corda anche se in italiano bobina vuol dire un'altra cosa ma vabbè è una corda attorcigliata a forma di bobina semmai ma vabbè adesso la smetto di parlare male della traduzione una volta creata possiamo lanciarla e come vedete piazza le corde anche in alto quindi questo è ottimo abbiamo un botto di zombie come vedete hanno diverse dimensioni e anche alcuni hanno delle torce insomma sono diverse sono particolari quindi possiamo provare ad affrontarli e chiaramente loro si generano solamente di notte quello che possiamo fare è utilizzare delle piattaforme posizionarle qui e noi al sicuro possiamo spararli eccetto che ho lasciato prima una piattaforma là e quindi ora mi sa che sono in grado di scavalcare e vabbè pazienza siamo in modalità classico quindi per fortuna siamo a posto siamo in modalità maestro eravamo morti a questo punto abbiamo anche della sabbia è utile per creare il vetro il vetro può essere utilizzato per creare le bottiglie e una volta rimpite d'acqua possiamo farci le pozioni riposizioniamo nuovamente la workbench perché ci sono altri oggetti che abbiamo sbloccato ad esempio possiamo creare la nostra fornace utilizzando 20 blocchi di pietra e 4 di legno questa è un'altra crafting station così vengono chiamate molto importante perché ci permette di squagliare i minerali per creare dei lingotti ah no barra perché anche qui la traduzione è ridicola ogni minerale richiede un determinato numero di minerali per creare i propri lingotti in particolare l'argento vuole 4 minerali noi abbiamo 11 potremmo fare qualche lingotto ma non possiamo farci molto due lingotti sono pochi però come vedete sono materiali quindi appena andate a casa dateli subito dalla guida e vi direi cosa potete farci anzi esattamente quello che faremo adesso sai utilizziamo la pozione del richiamo e ci siamo direttamente in casa già che notte si generano le stelle cadenti ogni tanto escono quindi raccoglietele sono munizioni perché vengono utilizzate dal canone stellare quindi potete mettere tranquillamente nella sezione munizione per risparmiare spazio si utilizzano per il mana in particolare per la classe del mago per il momento la ignoriamo purtroppo i png hanno il brutto vizio di uscire fuori di casa e combattere i mostri la notte il che probabilmente vi farà perdere molte partite è molto semplice basta che bloccate la porta ragazzi così i png non fanno danni ok torniamo a lui però creazione oggetti e gli possiamo dare l'ingotto d'argento per vedere cosa possiamo fare con l'argento in particolare i minerali possiamo creare picconi ascia il martello che non abbiamo ma ancora l'abbiamo fatto e serve per rompere le mura o per cambiare la direzione dei blocchi rendendoli metablocchi o rendendoli a forma di triangolo per fare le forme triangolari appunto possiamo creare uno spadone o una spada corta un arco ogni lingotto di minerali può essere anche utilizzato insieme a una gemma per creare un'arma magica un bastone magico molto forte in questo caso l'argento si combina con il zaffiro per creare il bastone di zaffiro e non vi spaventate se quando troverete i zaffiri verranno chiamati sapphire perché anche qui si sono dimenticati di tradurli possiamo poi creare anche un'armatura di minerale le armature minerali sono molto basiche ti tranno solamente punti di difesa un consiglio molto importante che vi posso dare però è che le armature in questo gioco non vanno quasi mai mischiate è sempre più conveniente utilizzare lo stesso materiale per un'armatura poiché se avremo tutti e tre i pezzi dello stesso set avremo anche un set bonus sempre con l'argento possiamo creare un orologio questo possiamo farlo con qualsiasi minerale iniziamo posizionando la fornace che è qui a casa che è uno dei tre crafting station che dovremo avere sempre a disposizione insieme alla workstation e all'incudine che faremo tra poco spero al momento non possiamo creare nulla di che potremo potenziare le nostre frecce ma al momento vanno bene quelle basi che non voglio sprecare torce quindi iniziamo a fare un po' botte con i nemici perché massi dai se siete in modalità che non sono classiche non vi consiglio di fare questo è un errore vedete anche che c'è un occhio del demone è un nemico volante ehi entrato dentro guida aiutami ok abbiamo preso un po' di danno ma con la pozione ci riprendiamo la vita è diventato giorno e i nemici come vedete scappano prima di andare avanti voglio ampliare questa casa per dare più spazio ai png nuovi png arriveranno se soddisfiamo prerequisiti quindi ora taglierò un po' più di legna e vi consiglio di tagliare gli albri grandi che ovviamente ce ne daranno di più e creerò nuovi alloggi se c'è uno spazio disponibile e progrediremo nel gioco naturalmente altri png arriveranno alla nostra casa questa è anche una buona opportunità per parlare del martello è un altro strumento che possiamo utilizzare per modificare il terreno come dicevo su un blocco fa questo effetto lo può trasformare in metablocco o fare dei piccoli triangoli però viene principalmente utilizzato per rompere le mura in questo caso non vogliamo avere le mura di terra e tra l'altro ho dato una martellata a un verme e ancora vivo due martellate e ancora vivo mamma mia e ancora vivo e ancora vivo allora ho creato nuovi alloggi e adesso voglio sapere se sono adatti ci sono le mura c'è l'illuminazione c'è un tavolo o una workbench e una sedia ci sono le porte vediamo se sono adatti valutazione alloggio questo è alloggio questo è adatto questo è adatto questo è adatto perfetto mettiamo possiamo anche spostare i vari png nelle diverse stanze e adesso appena avremo un nuovo png disponibile verrà automaticamente inserito la mattina in uno di questi alloggi ah altro momento di promozione per sapere i requisiti di tutti i png ho anche qui una guida e potete vedere è sempre formato short quindi dura meno di un minuto ragazzi e la metto qua nelle schede ok adesso lo faremo è posizionare una cassa metteremo le piattaforme una cassa per risparmiare un po' di spazio possiamo utilizzare il tasto deposita tutto e tutto ciò che è nell'inventario ma non nella hotbar nella sezione monete e nella sezione munizioni direttamente nella cassa potremo utilizzare riorganizza cassa potremmo utilizzare rifornisci che è una funzione in cui se abbiamo della legna sia fuori che dentro col tasto rifornisci la potremo riprendere al contrario se vogliamo inserirla utilizziamo accumula subito saccheggia tutto riprende tutto deposita tutto lo riposiziona e possiamo anche riluminare la cassa e la chiameremo Marco ok voglio il legno con me e la pietra con me è sempre comodo averle sempre a disposizione vorremmo anche il banco di lavoro quindi ora tendo a premuto il tasto alt ripeto su console controllate qual è il tasto per preferire gli oggetti dovrì che il cursor si trasformerà in una stella e possiamo cliccare su questi tasti in questo modo questi oggetti non verranno mai per sbaglio cancellati spostandoli nel cestino come funziona a proposito abbiamo ad esempio questi 4 blocchi d'argilla che vogliamo eliminare se ne abbiamo nell'inventario possiamo metterli nel cestino oppure tenendo del mondo il tasto controllo lo possiamo buttare direttamente nel cestino e possiamo cancellare completamente l'inventario così questo non è possibile quando gli oggetti sono preferiti quindi non li potrete cancellare da sbaglio la mappa si sta ingrandendo utilizzando il tasto M potete visionarla questa è la mappa intera di un mondo medio e possiamo ingrandirla o diminuirla come ci pare intanto esploriamo anche il lato destro vediamo se otteniamo qualche nuovo oggetto per potenziarci il nostro obiettivo principale al momento è sia di raccogliere molti nuovi minerali per creare delle armature e a proposito anzi fammi utilizzare la posizione di chiamo abbiamo abbastanza legno per creare un'armatura anche il legno ha un'armatura io di solito non lo faccio perché non ti dà abbastanza difesa ma vi consiglio comunque di farlo perché non costa nulla il casco il pettorale e gli schinieri il casco dà un punto difesa il pettorale dà un punto difesa gli schinieri non danno nulla però quando avremo tutti e tre i pezzi di legno equipaggiati nella sezione delle armature avremo anche un set bonus di una difesa ah no imposta bonus perché quanto pare hanno tradotto set con i poteri basta ho detto basta con la traduzione a fine video ragazzi vi parlerò delle resource pack e delle mod in particolare della mia resource pack in cui sto cambiando la traduzione literaria rendendola effettivamente sensata al tempo della registrazione del video la sto ancora sviluppando ma al tempo della pubblicazione probabilmente sarà già disponibile a traversi workshop ok come vedete anche se non ve l'ho detto prima entrando in acqua avrete queste bolle questo semplicemente respiro funghi vasi perfetto nuova pozione curativa nuova cassa oh abbiamo un'arma magica la bacchetta delle scintille oltre a 44 shuriken molto forti queste armi non le sto utilizzando ma ve li lascio a voi scoprirle 5 pozioni 11 torce e della legna normale oh 6 pozioni da quel vaso perfetto come vedete le pozioni base ne manco dovete craftarle perché ne troverete talmente tante in giro oh quest'altra cassa ha una lancia e anche 8 lingotti di piombo la lancia è un'arma che funziona soltamente con le spade corte ma sono molto più lunghe quindi la utilizzeremo il bastone delle scintille fa 15 danni magici e ha una possibilità di applicare il fuoco al nemico non c'è scritto qui ma ve lo dico io questo è l'effetto purtroppo non ha molto a contraccolpo quindi non è utilissima però come era la magica iniziale è ottima utilizza 2 unità di mana noi ne abbiamo 20 per ampliare il mana possiamo farlo fino a 200 utilizzando 5 stelle cadenti in un cristallo di mana e quello ci vuol entrare il mana di 20 punti permanentemente nel frattempo è arrivato anche il mercante ma lo vedremo appena torneremo a casa potremo anche modificare permanentemente la vita di 20 punti arrivando fino a 400 utilizzando i cristalli di vita che troveremo sparsi nelle caverne ah tra l'altro il mercante è arrivato perché abbiamo 50 monete d'argento nell'inventario questo è il requisito oltre che lo spazio libero in casa per far arrivare il mercante non vi parlerò molto di tutti i vari biomi ve li lascerò esplorare vi dico solo che sono tutti i più difficili della foresta il ghiaccio e il deserto sono comunque abbastanza facili e vi consiglio anche di scavare utilizzando l'ascia i cactus perché potete farci sia un'armatura sia una spada abbastanza facilmente state attenti al bioma nemico in questo caso è la corruzione ma potrebbe essere la cremisi perché sono molto pericolosi e anche la giungla è pericolosa arrivare però alla fine del mondo è anche abbastanza importante perché troveremo l'oceano e con esso anche alcuni png come il pescatore anzi solo quello in realtà non so perché ho detto al tonale ok già dalla musica sento che stiamo arrivando al bioma cattivo la corruzione aia però mi sa che ci crepano prima questi ah c'è un verme gigante ahhh scappate eh sì eh sì stavano già uscendo i nemici della corruzione e ci hanno massacrato e ora il tasto quick stack che la gruppa subito nelle casse vicine automaticamente posizionano tutti gli oggetti che avevamo già nella chest direttamente dentro e poi ci possiamo spostare anche gli altri chiaramente raramente crafteremo le casse perché ne torneremo abbastanza in giro quindi tranquilli però ora andiamo a parlare con il mercante ignorate la felicità perché è un po' complicata ma se volete sapere cosa riguardo indovinate un po' ho un tutorial short che vi metterò nelle schede adesso passiamo al negozio alcuni png vendono cose purtroppo non abbiamo molti soldi abbiamo solo 50 metri d'argento una cosa importante che lui ci vende è il salvadanaio che ci permetterà di posizionare le monete ma anche tutti gli oggetti è a tutti gli effetti una cassa ma una volta che le monete sono nel salvadanaio possiamo utilizzarle come se le avessimo addosso anche se non ce l'abbiamo molto utile perché se moriamo noi le perdiamo le monete mentre se le teniamo nel salvadanaio non c'è problema possiamo acquistare anche un incudine di ferro siccome ancora non abbiamo scavato abbastanza ferro o piombo possiamo acquistarla direttamente dal mercante però in una cassa ricordo che abbiamo trovato 8 lingotti di piombo e quelli qua e quelli sono sufficienti per fare un incudine può essere sia di ferro che di piombo non cambia nulla la posizioniamo siccome non abbiamo spazio utilizzo delle piattaforme le metto qua sopra chiudi la porta che fa freddo zio te li leva però ok posizioniamo l'incudine adesso possiamo utilizzare tutti gli oggetti che avevamo precedentemente visto con i lingotti ovvero le armature le spade e gli archi e tutto quanto ammesso che abbiamo minerali che non abbiamo però abbiamo raccolto abbastanza cactus forse ci esce fuori l'armatura credo di si facciamo il casco vettorale e gambali ogni pezzo ha un punto di difesa in più e il set bonus è che i nemici che ci attaccano in corpo a corpo riceveranno alcuni danni e verranno sbalzati all'indietro abbiamo perso il set bonus di più uno difesa ma questi stivali hanno la difesa quindi di fatto abbiamo lo stesso a punti di difesa dell'armatura di legno più il set bonus del danno quindi non male possiamo anche creare un piccone che è uguale a quello di rame però non ha il problema della gittata o una spada che è anche abbastanza buona ma per il momento utilizzeremo il cactus rimanente per il piccone ah possiamo fare anche la spada e vabbè e allora facciamo anche quella le catene sono un oggetto abbastanza importante per creare alcune cose non sono utilissime però ne prendiamo comunque alcune e di nuovo siccome è un materiale portatelo alla guida oltre ai lampadari possiamo farci gli orologi il rampino ma richiede purtroppo anche un oggetto abbastanza raro quindi per il momento ignoratelo e la lanterna a cuore che anche questo richiede un oggetto che al momento utilizzeremo in un altro modo possiamo creare anche un fuoco di bivacco sarebbe il campfire vabbè questo qua un'altra posizionata oltre a fare luce ci darà anche un'aura di rigenerazione come vedete qui abbiamo qui sotto l'inventario una lista di buff e debuff che potremmo avere durante la partita come in questo caso fuoco accogliente che aumenta la rigenerazione di vita grazie al campfire possiamo anche posizionare un sunflower o un girasole se ai traduttori andava a tradurlo e questo oltre ad aumentare la velocità del 15% riduce anche lo spawn dei nemici adesso levo il subling metto il sunflower eccolo qua abbiamo il buff felice aumenta la velocità di movimento e ridotta la generazione di mostri così finalmente abbiamo affrontato il giorno e la notte abbiamo iniziato ad esplorare i piccoli biome iniziare a creare le case per i png il consiglio principale adesso è andare nelle caverne scavare può rendere molti più accessori dopodiché iniziare a crearci un'arena per iniziare ad affrontare i boss il gioco iterale funziona attraverso la progressione per boss sempre più difficili continuiamo quindi ad esplorare raccogliamo nuove stelle cadenti ma cerchiamo soprattutto nuovi accessori i più importanti secondo me sono due che troviamo sotto terra e sono gli stivali per la corsa e la bottiglia del salto per il doppio salto ci sono diversi tipi sia di stivali che di bottiglie in base ai vari biomi quindi abbiamo buone possibilità di prendere almeno uno di entrambi ma sarebbe il caso di prendere entrambi sono accessori molto utili poiché il movimento è essenziale in questo gioco per sopravvivere ai boss per avventurarci purtroppo non possiamo mettere al sicuro le nostre monete perché non abbiamo soldi per un salvadanaio e tutte le cose che può vendere il mercante sono molto utili ma al momento ci teniamo un po' i soldi per sicurezza nel frattempo abbiamo trovato 6 stelle cadenti quindi possiamo utilizzare 5 per creare un cristallo di mana viene semplicemente utilizzato sullo schermo e abbiamo 20 mana permanentemente in più quindi siamo passati da 20 a 40 ok abbiamo trovato 9 casse esplorando un'altra guida al cordame di fibra vegetale questo però ha un modificatore il modificatore degli accessori ti danno diversi bonus che assolutamente vanno da 1 a 4 come danno difesa colpo critico il migliore è quello della difesa e quello migliore della difesa è quello che ti dà 4 difesa quindi sostituiamo quello difensivo a quello normale come vedete solo questo accessorio ci dà più difesa di tutta l'armatura nel frattempo è arrivato anche il mercante itinerante questo è un pg particolare arriva un giorno solamente e poi se ne va via e ti vende cose particolari ogni volta diverse ma al momento non abbiamo molti soldi quindi andiamo avanti e abbiamo raggiunto il ghiaccio sui blocchi di ghiaccio scivoleremo però abbiamo un'ottima opportunità di prendere una delle armi più importanti all'inizio del gioco ovvero scavate la neve semplicemente e ogni blocco di neve può essere trasformato in 15 palle di neve e le palle di neve fanno ben 8 danni sono non è male al momento finché abbiamo le palle di neve risparmierò anche le frecce per l'arco che tra l'altro fa 4 danni le palle di neve ne fanno 8 non so perché non so perché siano così forti le palle di neve il bioma del ghiaccio sotterraneo è molto più pericoloso rispetto al sotterraneo normale però in genere ha più gemme ok quindi la nostra prima grotta sarà di ghiaccio anziché normale va bene lo stesso anzi di solito ha un loot migliore insomma ok abbiamo uno slime di ghiaccio questo è un po' più pericoloso oh allora qui il ghiaccio diventa molto pericoloso nell'acqua i nostri movimenti saranno rallentati avremo un debuff per qualche secondo ma c'è anche questo ghiaccio questo ghiaccio un po' più trasparente il ghiaccio fine si trova sopra le puzzanghere questo ghiaccio se salti sopra si rompe quindi attenzione adesso io non ho il debuff del ghiaccio perché mi sa che quello si applica solo dal modalità esperto in poi quindi mi sa che siamo salvi ah purtroppo è già finita qua la grotta ma ok adesso non importa dobbiamo scavare quindi se non troviamo un accesso naturale lo troveremo noi lo faremo noi anzi tranquilli nello scavare in basso non è minecraft se c'è una pozza di lava la vedete perché fa luce quindi non rischiate però rischiate comunque di cadere in un buco allora abbiamo trovato le nostre prime gemme eccole qua questi sono topazzi le gemme poi sono utilizzate insieme ai minerali per fare armi magiche ma se ne abbiamo 15 possiamo utilizzare per farle un rampino e i rampini sono molto importanti per il movimento diamanti i diamanti qui non sono come minecraft non sono minerali quindi sono considerate gemme le gemme o ci fanno i rampini o armi magiche o niente di più quindi non vi entusiasmate troppo però sono belli rari finalmente abbiamo raggiunto qualcosa di interessante innanzitutto ci sono le ragnatele non sembra ma possono essere utili quindi raccoglietele altri diamanti la miseria ma quello che ci importa è aver trovato una cassa di ghiaccio le casse di ghiaccio hanno loot molto simili alle casse d'oro che sono quelle che troviamo sotto terra ed entrambe contengono una versione dello stivale della corsa o della bottiglia del doppio salto vediamo se la troviamo si abbiamo lo stivale della corsa di stivale della raffica qualunque la indossa può correre velocissimo la mettiamo ci prendiamo anche la cassa questo permette di fare questo appena ci muoviamo un po' sentiremo un rumore che ci permetterà di correre qui non c'è abbastanza spazio quindi non riesco a farvelo vedere ma lo vedrete fuori adesso c'è un problema questa che vedete qui è una pressure plate è una trappola e come vedete è collegata ormai ci ho fatto l'occhio è una dart trap se noi clicchiamo questa pressure plate ci sparerà un dardo vedenoso ok anche spento una torcia perché era nel raggio del wiring che posso vedere una volta che prendo la pressure plate in mano ogni volta che ho attivato oltre a spegnere la torcia ho anche attivato la trappola per ora non ci stiamo a preoccupare per il wiring che sarebbe l'equivalente della redstone ma ci sta quindi ho una tonnellata di zaffiri come vi avevo anticipato non sono stati tradotti sono rimasti sapphire aia aia no maledetti mi hanno fatto il trappolozzo abbiamo raccolto un bel po' di risorse interessanti però iniziamo fondendo i minerali che abbiamo trovato e ora abbiamo accesso a nuovi crafting quello che farò è utilizzare l'argento per creare un arco quindi per potenziare quello di legno e basta perché ho finito potremmo utilizzare anche il pio combo per utilizzare nuovi strumenti ma nel momento io sto a posto a cose abbiamo accumulato un po' di roba che non ci serve più adesso quindi quello che potremmo fare è andare al mercante e venderla le pressure plate non ci servono al momento e si vendono abbastanza bene e ora guardate che abbiamo già raggiunto una moneta d'oro e vendiamo anche il resto possiamo anche tenere premuto control e autovenderle così cliccandoci sopra ora in totale abbiamo due monete d'oro ottimo quindi ne utilizziamo quasi una per prendere il salvatanaio lo mettiamo qua sopra ci mettiamo dentro tutti gli altri soldi rimasti e adesso come vedete automaticamente apriremo il salvatanaio con i risparmi quando parleremo con un mercante che ci venderà qualcosa il retino è utile per catturare le creaturine come vermi e farfalle che sono utilizzabili per la sezione della pesca che per il momento non vedremo il falcetto funziona come una spada ed è anche abbastanza forte quindi vi consiglio di acquistarla magari e raccoglie il fieno quando andiamo a tagliare l'erba che è un blocco che possiamo semplicemente utilizzare cercherò adesso una caverna normale per esplorare e prendere anche il doppio salto ed ecco qua tra l'altro la corsa in azione che non ho ancora mostrato arrivati a una certa profondità nelle caverne inizierà a spawnarsi la lava è chiaramente letale quindi attenzione ci sono alcuni accessori che però che escono solamente nelle caverne all'altezza della lava sono pochi però è poca roba ok ogni tanto ci sono anche dei nemici verme attenzione questi viaggiano nel sottofondo nel background eccoli qua e sono segmentati il che vuol dire che se abbiamo un'arma come ad esempio una lancia che fa danni da penetrazione potremmo eliminarli facilmente qui siamo ai confini dell'underground del deserto come potete vedere anche dalla mappa che ha questa forma tonda sferica più nellissi in realtà però insomma il deserto sottoterra è molto difficile più o meno come il biome nemico potete affrontarlo prima o dopo per il momento restate comunque nell'eserto superficiale nella tundra superficiale nelle caverne normali e del ghiaccio ok abbiamo trovato un mini bioma all'interno delle caverne che è quello dei funghi luminosi i funghi luminosi stessi sono dei materiali che si utilizzano per le pozioni in particolare possono aggiornare le nostre pozioni di vita curative dalla versione minore a quella normale che c'è tra 100 punti di vita anziché 50 eccoci arrivati subito un black slime questi sono molto pericolosi perché sono difficili da vedere e ti mettono il debuff accecato che ti diminuisce l'unità dello schermo abbiamo trovato anche molte cose qui però innanzitutto questa è una statua cioè sono di molti tipi alcune possono essere utilizzate per evocare dei mostri che però hanno una probabilità ridotta di droppare oggetti quindi sono di solitamente utilizzati come decoro abbiamo finalmente nostro primo art crystal una volta rotto il cristallo di mana può essere utilizzato per aumentare la vita da 100 a 120 e possiamo continuare così fino a che arriviamo a 400 ora che abbiamo attivato il nostro primo cristallo di mana abbiamo soddisfatto il requisito della infermiera abbiamo anche trovato il minerale di platino che è il momento la migliore risorsa che possiamo trovare mi raccomando fate attenzione perché una volta che arriveremo a 200 punti di vita soddisferemo il requisito per il primo boss che da quel momento in poi cercherà di evocarsi quasi ogni notte finché non lo batteremo almeno una volta ed ecco l'infermiera di cui parlavo è appena arrivata per ora non pensiamo al boss però esploriamo qui le caverne dei funghi luminosi come vedete questa non è terra è fango infatti si genera attraverso il fango e oltre a creare i funghi luminosi per terra li crea anche sul soffitto e crea anche dei piccoli alberi dei funghi enormi che possono essere scavati con l'ascia come se fossero appunto degli alberi ci sono anche dei pipistrelli e degli scheletri a tema funghi luminosi come potete vedere eccolo qua il black slime mi ha accecato qui abbiamo i debuff 10 secondi 14 anzi perché mi ha accecato di nuovo divisione diminuita ecco qua abbiamo anche la cassa dorata sopra di noi solitamente nei biomi dei funghi luminosi ci sono le case speciali di funghi che sono molto simili a quelle d'oro eccetto qualche piccola variazione in questo caso è generata una cassa d'oro delle caverne normali a noi ci va bene lo stesso visto che cerchiamo comunque lo strumento del doppio salto principalmente ma anche qualcos'altro magari noterete che appena romperò l'acqua e inizierà a cadere sotto le torce si romperanno questo succede quando gli liquidi attraversano le torce ci sono ancora alcune torce che però sono funzionali anche sott'acqua però li vedremo più avanti attenzione piragna i piragna insieme agli scheletri normali possono droppare un oggetto che è il uncino che ci permette di creare il rampino però solitamente facciamo prima a raccogliere oh oh attenzione a raccogliere una quantità sufficiente di gemme tali da creare un rampino delle gemme che è anche migliore raccogliamo tutti i funghi possibili abbiamo trovato ok cose molto importanti a parte i coltelli da lancio lingotti di platine molto buoni abbiamo i bastoni luminosi che in realtà vabbè sono i bengala che questi qua possiamo tenerli in mano e fanno luce come le torce però possiamo anche lanciarli per fare luce a distanza e possono anche fare luce sott'acqua possiamo anche creare altre cose come possiamo renderli appiccicosi con il gel cose di questo tipo possiamo anche creare bombe queste qui vi consiglio di tenerle perché sono molto utili soprattutto all'inizio per rompere dei blocchi che i nostri piccoli non saranno in grado di distruggere però quando abbiamo una buona quantità riusciremo a scavare molto più velocemente anche queste hanno una variante appiccicosa che utilizza il gel e c'è anche la bomba di terra che invece anziché esplodere creerà terra questo si usa molto per le costruzioni come vedete i funghi luminosi sono anche blocchi infatti possono fare la piattaforma una walk bench infatti possiamo anche posizionarli come vedete un'altra cosa abbiamo trovato è la benda della rigenerazione innanzitutto è protettivo unici da due punti di difesa che è ottimo questo equipaggiamento ci muovente la rigenerazione della vita non male si può anche combinare come vedete un materiale con altri accessori per crearne alcuni molto più forti ma abbiamo anche trovato l'occhio dallo sguardo sospetto evoca l'occhio di Cthulhu questo è il boss di cui vi parlavo quello che si cercherà di generare automaticamente una volta che abbiamo raggiungito 200 punti di vita ogni sera tramite un messaggio se succederà potremo evitarlo andando nelle caverne e passando la notte lì così il mostro non si genererà oppure possiamo evocarlo manualmente utilizzando questo oggetto che possiamo craftare utilizzando 6 lenti droppate dagli occhi del demone però solo vicino a una stazione un altare del demone o l'altare della crimisi che noi non potremmo craftare ma che si trova nel bioma nemico una volta sconfitto almeno una volta occhio di Cthulhu non si ripresenterà più ogni sera quindi questo funziona solo per la prima volta se volete risparmiare il consumabile aspettate che si generi da solo la prima volta sconfiggitola in quella occasione ah un piragna ci ha droppato un oggetto la bussola è un equipaggiamento particolare insieme ad altri equipaggiamenti come l'orologio che funziona anche se non li mettiamo nello slot accessori si chiamano gli oggetti di informazione e come vedete ci ha creato questo piccolo pallino qui con scritto posizione ora nell'inventario e qui ci dice 316 S ci indica la nostra posizione per ogni accessorio di informazione possiamo disattivarlo cliccando ESC per aprire l'inventario cliccando su questo piccolo pallino possiamo attivarlo o disattivarlo allora sotto di me trovate un minerale un po' blu fluorescente quello è la demonite si genererà solamente se avremo la corruzione mentre se avremo la crimson la cremisi avremo il crimtano questo minerale diciamo che è quello un po' più forte dell'oro e del platino e non potrà essere scavato se non con un piccone di oro o platino che occhio di Cthulhu il secondo boss ci dropperà una grande quantità di questo minerale in realtà anche il boss del bioma nemico ce ne dropperà tanti infatti non vale quasi mai la pena scavarli perché ne otterremo comunque delle grandi quantità questa è una fatina ci sono diverse fatine che possono generarsi sottoterra il loro scopo è guidare il giocatore verso un pre un tesoro in questo momento mi sta indicando verso il basso che vuol dire che ci potrebbe essere una cassa o un oggetto importante prima però notate che c'è un'altra trappola questa è la classica trappola del boulder è la più pericolosa se vedete bene qui ingrandisco lo schermo anzi tra l'altro lo insegno pure qui avete uno zoom che potete fare manualmente anche usando il tasto più o meno della tastiera adesso lo utilizzerò da tastiera adesso ho fatto lo zoom al massimo i sei blocchi che sono sotto il sasso sono blocchi di pietra che scompariranno una volta che premeremo la pressure plate che è stata posizionata sotto questa trappola possiamo evitare in diversi modi rompendo la 3 la pressure plate oppure se vi capita di starci sopra il boulder basta romperla con un piccone comunque ora vedo che la fatina mi sta indicando questa cassa dorata quindi ci ha fatto bene a portare qui ecco è scomparsa ora che ci ha detto dov'è abbiamo anche trovato sei pozioni curative queste le potremo fare con i funghi luminosi però le troveremo spesso anche nelle caverne li metto qui davanti in modo che sono quelle utilizzabili quando premeremo il tasto H per curarci quando avete una pressure plate in mano o qualsiasi cosa meccanica potete vedere che effettivamente ci sono le wires queste non le possiamo ancora raccogliere ne possiamo utilizzarle per ora poi le vedremo vi voglio mostrare come funzionano le bombe però adesso farò una bomba appiccicosa e l'appiccico qua al muro me ne vado via se lo dovete scavare semplicemente in basso ovviamente non sprecate il gel fate la versione normale delle bombe statevi raccomando attenti vi consiglio di avere almeno il doppio salto o il rampino per utilizzare le bombe in questo modo altrimenti rischiate di morirci ok questa è una blink root in italiano si chiama non lo so neanch'io lampeggia radice ok è un altro di quei fiori alchemici quando luccica ti darà anche il seme i fiori di giorno invece ti daranno il seme solamente di giorno e qui abbiamo una piccola trappola di solito questa è anche piccola però in genere si generano grossi blocchi di minerali e abbiamo anche un detonatore e un esplosivo l'esplosivo però è molto più grande della bomba normale quindi dobbiamo stare attenti in genere conviene rompere o l'esplosivo o il detonatore e scavare a mano però c'è anche un modo per attivare il detonatore e stare al sicuro cerchiamo di stare più lontani possibili dal detonatore intanto hoci potuto trovare un'altra farfallina stanza lontani dall'esplosivo speriamo bene ok preciso preciso ah ok la fatina ci ha portato verso un cuore di cristallo bene ottimo in una delle prime versioni terrarie i cristalli si rompevano con il martello addirittura ma io gioco ormai da dieci anni da quando è uscito il gioco quindi ormai ho più di duemila ore su steam giusto per dire so di quel che parlo per fare una guida insomma qui possiamo utilizzare il nostro minecart che al momento non abbiamo però come dicevo ne abbiamo già uno automatico di legno auto equipaggiato diciamo io poi per sicurezza lo do piano perché non si sa mai dove vado a finire ok acceleriamo il volo dai facciamoci tutta questa triscia di terra come vedete un bel po' di roba esplorabile questo è un albero di gemme è un albero normale che però ci darà delle gemme chiaramente anche le ghiande sono particolari e separate per ogni tipo di gemma diverso oh credo di aver trovato qualcosa di interessante questa sembra una cassa normale in realtà questa è una dead man's chest è una cassa con trappole ogni cassa ha la versione sua che permette di attivare un impulso di meccan di blocchi meccanici in casa di mancraft e la redstone qui dà un'attivazione delle wires e come vedete ci sono un bel po' di trappole abbiamo una dart trap ne abbiamo un'altra qui ancora un'altra sempre qui poi abbiamo quattro boulder ok due sono andati possiamo anche rompere questi due blocchi quella cadrà e si romperà da sola perfetto ok anche queste quattro boulder sono state disattivate poi e questa è la cosa più assurda io vedo degli esplosivi qui e ce n'è anche uno qua gli esplosivi sono di solito quella cosa che ti fregano sempre adesso credo di aver disinnescato tutte le trappole se mi sbaglio starò per morire però se tutto va bene ok tutto disattivato bene abbiamo trovato qualche altro loot 10 barri di platino sono ottime abbiamo i ramponi questi sono gli shoe spike ti permette di scivolare sui muri e se abbiamo anche gli artigli da scalata possiamo anche rimanerci fermi fanno il stesso effetto uno però è delle caverne uno si trova in superficie e insieme uniscono gli effetti ok possiamo metterlo qui nell'inventario facciamo un po' di spazio di blocchi inutili attenzione ai blocchi che cadono non ne ho parlato molto ce ne sono alcuni come la sabbia o questo blocco insabbiato si può morire soffocati quindi attenzione ai blocchi che appunto soffrono di gravità allora a questo punto abbiamo molte gemme e ne possiamo anche utilizzare per fare un rampino il problema è che ci serve un incudine non l'ho portata con me e potreste farlo basta che l'acquistate da un mercante però ho con me un banco da lavoro con la fornace ci squaglio 5 minerali di piombo o ferro uno dei due con i quali faccio un incudine piazzarla intanto stanno suonando i claxon qua sotto casa va bene la piazziamo adesso possiamo creare il rampino come se fossimo a casa quindi andiamo ai potenziamenti possiamo farne uno di ametista di topazio o di smeraldo quello di smeraldo è migliore se cliccate il tasto organizzare inventario le gemme vengono organizzate per il loro grado di rarità la meno rara è ametista poi va topazio zaffiro smeraldo rubino infine c'è diamante noi possiamo fare quella di smeraldo la facciamo subito col tasto destro la auto equipaggiamo se no bisogna andare qui su equipaggiamento e cliccarla e adesso con il tasto E però voi potete cambiarlo io penso di averlo cambiato ma voi potete cambiarlo tranquillamente nelle vostre impostazioni e ovviamente dipende se state giocando da console o meno e guardate che cosa possiamo fare il rampino come vedete è estremamente utile è forte possiamo utilizzarlo per scavare in alto senza bisogno delle corde ma possiamo anche utilizzarlo per rompere la caduta se stiamo cadendo e rischiamo di farci male utilizziamo il rampino al volo e ci proteggiamo le armature di minerali purtroppo sono molto costose io vi consiglio comunque di giocare e prendere tanti minerali da fare queste armature io le salterò perché comunque insomma non le faccio neanche in master queste armature figuratevi però quello che farò sicuramente è un piccone piccone di platino ti dice anche che può estrarre meteorite lo vedremo più avanti cos'è le meteorite però aggiorniamo il piccone ecco qua questo aveva potenza 35 questo potenza 59 come vedete scava molto più velocemente potremmo fare un arco di platino che fa anche molti più danni rispetto a quello d'argento e sì perché no facciamo anche una spada già che ci siamo sostituisce la lancia anche se la lancia comunque fa altro fa qualcos'altro purtroppo la spada è uscita debole quindi c'è il 20% in meno di contracolpo ma pazienza in realtà vi consiglio utilizzare l'oro e il platino per strumenti ed armi e l'argento o il tungsteno che invece a meno utilizzi magari usate quelli per un'armatura ok con il nuovo piccone e il rampino ora sarà molto più facile esplorare come vedete mi butto tranquillamente perché sono abituato rompo la caduta al volo voi non lo fate allenatevi prima però io adesso esplorerò molto più veloce se abbiamo il doppio salto potremo fare la stessa cosa perché più o meno ha lo stesso funzionamento oppure potete fare qua Spider-Man e questa roba qui è pericoloso ragazzi voi non fatelo all'inizio fateci attenzione insomma spesso troverete che l'acqua a contatto con la lava fa come vi aspettate l'ossidiana l'ossidiana può essere scavata solo con un piccone di platino o d'oro altrimenti se non l'avevamo già presa avremmo utilizzato le bombe ok ragazzi qua siamo circondati la lava non c'è molto altro da fare purtroppo niente il doppio salto però questo è un momento per tornare a casa se siamo a corto di torce e di spazio nell'inventario abbiamo anche l'infermiera ah non me l'era a corto è arrivato il demolitionist l'esperto di demolizioni lui inoltre abbiamo delle bombe nell'inventario e abbagliano i cani ma perché ogni volta il registro ci venderà le granate le bombe e le dinamiti quindi ottima cosa mi raccomando per quanto riguarda il platino e il piombo oppure l'oro e il ferro cercate di lasciare qualche minerale da solo perché sono ingredienti alchemici per le pozioni entrambi pozioni molto forti con il ferro con il piombo possiamo fare una canna da pesca rinforzata che è molto meglio di quella di legno infatti quella di legno non fatela proprio non vi conviene la facciamo perché inizieremo anche a parare un po' di pesca appena possibile andiamo dal mercante che ci vendrà il retino questo serve per cattuare le creature che utilizzeremo come esche ad esempio le esche sono i vermi rompendo questi piccoli sassi che trovate in giro se ne possono trovare alcuni se no si generano naturalmente durante le piogge o sottoterra ah un'altra cosa che fa il rampino se siamo ancorati non soffriremo il contraccolpo i vermi siccome sono utilizzabili dalle canne da pesca contano come munizione possiamo fare un carrello ne abbiamo già uno questo è leggermente più veloce ma quindi lo evitiamo però importante abbiamo il bastone di diamante questo è un'arma magica molto forte che sfrutta 10 lingotte di platino 8 diamanti e anche di tipo mistio quindi 9% di danno e 12% di costo di mana in meno ottima notizia perché adesso abbiamo una spada da mischia un arco da distanza e un'arma magica ci mancano le armi da invocatore ma quelle sono molto più rare questo bastone fa questo attacco qui sto tenendo premuto in questo momento il tasto quindi è molto forte consuma mana però noi ne abbiamo solamente 60 come vedete il mana si rigenerà automaticamente se abbiamo la barra mezza vuota si rigenerà velocemente se invece la sprechiamo completamente la esauriamo ci vorrà un po' più di tempo prima che la rigenerazione inizi quindi non si consiglia mai di sprecarla tutta il mercante venderà anche pozione di mana inferiore che rivistono 50 unità di mana utilizzando il tasto B possiamo berla ma una volta utilizzate le pozioni di mana avremo il 40% in meno di danno magico per un po' di secondi quindi c'è anche un lato negativo purtroppo possiamo anche utilizzare rampino in combinazione con il salto ricevere uno sprint di velocità e che attiverà tra l'altro i nostri stivali della corsa quindi questo è il metodo che abbiamo al momento più veloce per andare più veloce insomma come vedete appena utilizziamo il mana per rompere dei nemici questi potranno avere una possibilità di droppare delle piccole stelline di mana che ce ne daranno 100 e se abbiamo anche perso un po' di vita anche quelle di vita che ci daranno 20 punti di vita questa è la corruzione e il bioma nemico per il momento vi consiglio solamente di attraversarlo se volete esplorare le due hanno praticamente entrambi delle caverne non vi starò a spiegare tutto perché vi lascerò a voi spiegare il gioco però questi altari qui questo è l'altare del demone lacrimisi è l'altare del lacrimisi il permesso è di creare alcune armi o oggetti come ad esempio il consumabile per evocare il boss occhio di Cthulhu se avessimo avuto sei lenti avremmo potuto craftarlo questa pietra viola è la pietra della corruzione non potremo ancora romperla però possiamo utilizzare le bombe per spaccarla e come vedete ci sono delle sfere luminose c'è un equivalente simile anche nel lacrimisi quelle sfere contengono degli oggetti il primo contrerà sempre un'arma da fuoco gli altri alcuni accessori armi magiche o armi da corpo a corpo attenzione perché ogni tre che ne rompete evocherete il boss del bioma nemico questo ve lo dico perché all'inizio non è molto facile capirlo quindi qui abbiamo il dungeon il dungeon può essere di tre colori rosa verde o blu è casuale e non influenza assolutamente nulla il dungeon è presente questa struttura in cui possiamo entrare ci sono grossi loot come vedete ci sono anche cose nuove ci sono libri che possono essere utilizzati in diverso modo 9 pot ci sono queste lampade che possiamo accendere o spegnere è molto particolare ci sono anche le candele d'acqua questa aumenterà la rigenerazione dei nemici permetterà doppia la quantità di nemici su schermo possibile e anche la loro generazione finché la teniamo in mano oppure la piazziamo quindi è un ottimo per farmare in un momento però non ne rentreremo perché se entriamo nel dungeon uno scheletro o meglio un teschio gigante ci massacrerà in un colpo solo è un modo per evitare di farci entrare nel dungeon perché prima dovremmo battere il vecchio e maledetto adesso e ti chiede di tornare la notte se vuoi entrare se noi di notte parliamo con quest'uomo ci permetterà ah tra l'altro il fatto che possiamo agganciarci al muro vuol dire che possiamo scavalcarlo se noi torniamo di notte e parliamo con il vecchio uomo ci evocherà il boss scheletron che è un teschio volante con anche delle mani scheletriche che ci attaccherà è un boss che non vi consiglio di affrontare per quanto riguarda la progressione noi partiremo dalla foresta possiamo attraversare la superficie di giungla e deserto facilmente poi vi consiglio di passare per le caverne normali e di ghiaccio una volta affrontate i primi due boss quello del giorno e quello della notte potrete esplorare il deserto sotterraneo e il bioma nemico ma ovviamente potete farlo anche quando volete questo è solo un suggerimento poi si passa a livello di difficoltà alla giungla solo a questo punto vi consiglierò di entrare nel dungeon e affrontando scheletron ovviamente gli inferi per trovarli basta andare sotto non è un biome superficiale ci sono più altri piccoli biome come la granite il marmo le isole volanti e l'oceano che sto cercando di raggiungere adesso perché volevo parlarvi della pesca ok il mio obiettivo è arrivare al bordo del mondo ed eccoci qua qui troveremo l'oceano gli oceani ci sono da tutti e due lati e sono biomi abbastanza pacifici e che in genere generano il png del pescatore di solito lui dorme o sott'acqua o sul bordo dell'acqua dormendo o sulla sabbia purtroppo non lo vedo quindi non si è spawnato sarà dall'altro lato purtroppo io adesso rischio il suffocamento addentrandomi nell'oceano perché dentro ci sono delle casse d'acqua neanche una che sfiga allora torniamo indietro e passiamo dall'altro lato ok abbiamo il mercante itinerante tra l'altro oh allora lui ci venderà dei blocchi delle cose ogni volta cambia sono cose diverse abbiamo dei calici dei piatti ci sono tutte decorazioni per il momento andiamo dall'altro lato e cerchiamo di sbloccare il pescatore siamo arrivati alla giungla quindi nella giungla potreste effettivamente rompere le piante poiché ci sono dei piccoli vermicettoli e quindi è abbastanza facile trovare delle esche per la pesca ma perché pescare a proposito nella pesca possiamo trovare diversi pesci alchemici i pesci e le piante sono i principali ingredienti delle pozioni le pozioni sono molto utili se giocate soprattutto nelle difficoltà più avanzate del gioco altrimenti non sono necessariamente così importanti però ci sono alcune pozioni molto importanti vi ho trovato dei alberi giganti questi sono molto importanti perché contengono dei loot interessanti principalmente la prima arma summoner e questo è quello che succede quando ti casca un masso addosso una cosa che non ho detto è che la corruzione con lacrimisi si estende e piano piano raggiungerà e corromperà il resto del mondo però come vedete la terra e la pietra è corruttibile ma se noi dovessimo mettere ad esempio tre blocchi di legno perché tre è la distanza necessaria siccome la corruzione non si estende oltre il legno pesce vai via canto della pioggia questo strumento raro dicevo non si stende attraverso il legno quindi adesso abbiamo effettivamente bloccato l'estensione della corruzione superficialmente ovviamente sotto terra è tutto un altro discorso perché si estende attraverso la pietra ed è molto più complicato bisognerebbe creare dei fossati larghi tre blocchi per evitare questo però insomma canto della pioggia è una chitarra come vedete è una ok questa è sicuramente una stanza di legno vivo qui abbiamo una loom questo qua telaio vabbè in italiano il telaio ci permette di creare i crafting utilizzando il legno come se fosse legno di legno vivo ovvero tutto questo legno che vediamo qua intorno a noi nella cassa di legno vivo però quello che noi vorremmo cercare è l'arma evocatore vediamo se la troviamo sì eccola qua bastone fringuello o finchstaff ottimo ho un'arma di ogni tipo allora le armi di evocazione sono di diverso tipo quella principale sono però i servitori grazie a questo bastone utilizzeremo un po' di mana ed evocheremo un piccolo uccellino sopra di noi questo è il nostro primo servitore il più debolo del gioco ma comunque sono molto forti poiché attaccheranno automaticamente il nemico senza che noi non dovremo far nulla ci sono anche delle fruste che invece sono delle armi che a tutti gli effetti funzionano come armi corpo a corpo come spade più lunghe diciamo però fanno danno d'evocazione e indirizzano i servitori verso un nemico specifico quello che colpiremo ci sono poi anche degli accessori dell'armatura dell'evocatore eccolo qua è andato a attaccare lo zombie come vedete fa tutto da solo le armi dell'evocatore sono molto forti ma appunto voi dovreste scappare stare attenti all'inizio quindi ci sono lati positivi e lati negativi però come vedete spara automaticamente la cosa bella dei servitori è che anche se non giocate la classe dell'evocatore potete giocare qualsiasi altra cosa un minion non un servitore potete comunque evocare non è male ora che piove tra l'altro spero anche di beccare non solo le stelle perché notte ma anche più vermi perché di sera ci sono anche più vermi quando piove e i pesci non so perché iniziano a camminare per strada ah si tra l'altro gli zombiano l'impermeabile si insomma sono cose un po' così un'altra cassa oh l'ombrello è una sorta di spada diciamo spada corta funziona allo stesso modo però se ce l'abbiamo addosso ci permette anche di rallentare la caduta quando ce l'abbiamo in mano questo serve all'inizio perché ci permette di sopravvivere ai danni da caduta però adesso noi stiamo a posto grazie al rampino ok abbiamo raggiunto l'oceano anche da questo lato perfetto e dov'è il pescatore ma seriamente non si è generato neanche qui riuscirò a uscire fuori in tempo purtroppo no quindi devo tornare per forza a casa però che sfiga niente pescatore è strano allora prendiamo le stelline possiamo fare altri due cristalli di mana perfetto siamo a 120 per il momento parliamo delle pozioni allora come prima cosa abbiamo bisogno di una bottiglia allora un paio di cose che abbiamo trovato durante le nostre esplorazioni che non ho ancora utilizzato sono la borsa d'erba e la lattina di vermi dovremo appunto dei vermi quindi sono ottimi per le esche per la pesca invece la borsa di erbe ci darà delle foglie alchemiche o i loro semi quindi ci ho dato lo splendiluna che è la foglia della giungla che va in fiore la notte quindi la notte se la raccogliamo luccica ci darà anche i semi che potremmo ripiantare e l'acquafoglia che si spauna nel deserto e germoglia quando piove questi sono i semi dell'acquafoglia l'erba morte si genera nel bioma nemico e luccica durante alcune particolari sere che se non sbaglio è la luna piena e la luna di sangue mentre il fior di fuoco germoglia casualmente ed è il fiore dell'inferno ok racconto tutti gli oggetti alchemici che ho e anche le pozioni in realtà sarebbero meglio due casse separate però al momento va bene così mettiamo in una cassa tutta questa roba che ha a che fare con le pozioni se non sapete quali sono gli oggetti alchemici quelli che possono essere utilizzati per le pozioni semplicemente se sono materiali chiedete alla guida ora ci serve della sabbia la utilizziamo insieme a una fornace per creare del vetro come vedete io non ho la sabbia nel mio inventario sta nella cassa ma la cassa è aperta e io sono vicino alla fornace quindi posso comunque fare il vetro questo è un ottimo sistema per craftare in modo molto veloce con il vetro potremo creare le bottiglie ora di là del fatto che c'è un vermicello che vuole prendere visto che sono tutte cose il pesce non ci serve abbiamo un sacco di bottiglie le bottiglie una volta piazzate possiamo piazzarle su un tavolo su una workbench o su una piattaforma per il momento utilizzerò una piattaforma la metto qua fuori giusto per farvi vedere questo ci permetterà di creare le pozioni per fare le pozioni l'ingretto principale sono le bottiglie d'acqua noi dobbiamo riempire d'acqua quindi basta andare una qualsiasi tra l'altro adesso piove con la pioggia la potenza di pesca è migliorata piccolo suggerimento ok vicino all'acqua possiamo metterci l'acqua nella bottiglia ecco qua ne faccio un botto tanto va bene così la mettiamo nella cassa delle pozioni magari nominatela pure così ve la ricordate qui abbiamo tutte le pozioni che possiamo fare già adesso la pozione di mana migliorata rispetto a quella inferiore utilizzando i funghi luminosi pozione rigeneratrice della rapidità della pelle di ferro la rigenerazione mana eccetera eccetera siccome la bottiglia d'acqua utilizzata per il 90% delle pozioni è l'oggetto ideale da dare alla guida nella sezione creazione oggetti per sapere le pozioni come si fanno come vedete infatti quasi tutti hanno gli stessi ingredienti le piante alchemiche e un'acqua imbottigliata cerchiamo di farne alcune di combattimento per utilizzare per le prossime battaglie perché vorremmo iniziare a provare il primo boss la pozione per la di ferro è una delle pozioni più importanti del gioco come vedete io ho 9 di difesa con solo questa pozione arriveremo a più 8 quindi ottimo per un totale di 17 poi queste altre pozioni non sono particolarmente forti ne vorremmo fare altre pozione rigeneratrice ottima rigenera la vita anche pozione rapidità aumenta il movimento del 25% e non sembra che abbiamo molte altre pozioni da battaglia da fare adesso questo perché richiederà la pesca infatti possiamo provare anche a pescare adesso e siccome in superficie non ci sono pesci alchemici vorrei trovare una caverna una pozza nella caverna abbastanza larga adesso ci vado subito ne trovo una ok nelle caverne si trovano i pesci corazzati che permettono di fare la pozione della resistenza che riduce il danno del 10% in realtà questo boss vi assicuro che non è così difficile non richiede che voi fate le pozioni però vi sto mostrando comunque delle cose perché questa è sempre una guida completa del resto no cercate di pescare nei diversi biomi in ogni caso per trovare quali sono i vari pesci particolari di ogni bioma purtroppo non abbiamo trovato il pescatore comunque vi spiego al volo cosa fa quel png ti darà delle quest ti chiederà di prendere ogni giorno un pesce particolare diverso il pesce che ti chiederà sarà unico e si genererà solamente quando te lo chiederà il pescatore e non e mai in nessun altro modo ogni quest completata ti chiederà dei premi molto essenziali per il pescatore però per il momento ne faremo a meno visto che non l'abbiamo trovato ve lo lascerò a voi da scoprire ok siamo nel biome dei funghi luminosi e il funghi luminosi non ha nulla di particolare e ha gli stessi oggetti delle caverne normali quindi posso tranquillamente pescare qui questa pozza è abbastanza grande ok se io pescassi da qua conterebbe che stessi pescando nel deserto se invece io pesco qui nelle caverne normali si vede dal colore dell'acqua e dalla musica iniziamo a pescare semplicemente quando l'esca sembra andare giù ritiriamo via la canna più grande la pozza più la probabilità è alta di prendere qualcosa di utile in questo caso non abbiamo preso niente la canna si è rotta anzi o meglio il filo della canna si è rotta facendo le quest del pescatore troverete anche degli oggetti che aumenteranno la possibilità e la capacità di pescare pescherò un po' di cosa perché posso capire che è un po' noioso e poi ve lo vi dirò cosa è successo tra l'altro in questo momento mentre peschiamo i servitori sono ottimi perché ci proteggeranno mentre noi siamo tranquilli man mano che peschiamo consumeremo le esche non sempre in questo momento ne abbiamo consumata solo una fino al momento abbiamo già pescato quanti oggetti è abbastanza 6, 7, 8, 9, 10 oh ok pesce cieco corazzato questo è quello che volevamo utilizziamo la pozione di ritorno per tornare a casa e parliamo di quello che abbiamo trovato prima un piccolo accenno alla rarità degli oggetti come vedete questa spigola non ha rarità poiché il suo nome è bianco mentre il pesce cieco corazzato ha la rarità blu che è un po' più alta e questo è utile soprattutto quando si pesca poiché i pesci bianchi ce ne sono di diverso tipo e non servono a molto lo possiamo cucinare per creare un oggetto per potenziarci una piccola diciamo pozione tra virgolette mentre gli altri sono probabilmente dei pesci alchemici il pesce speculare serve a fare pozioni come la recall potion la pozione del richiamo non molto importante mentre il pesce cieco corazzato è il pesce di cui vi parlavo perché come vedete ci permetterà di fare la pozione resistenza che riduce il danno subito al 10% insieme a una lampeggia radice lo facciamo e lo utilizzeremo adesso per il prossimo boss fight abbiamo anche delle casse queste sono casse diverse e infatti dovrebbero essere state tradotte in modo diverso nella mia traduzione l'ho fatto in base alla realtà hanno degli oggetti migliorati e basta aprirle per avere dei bonus questi sono minerali di ogni tipo anche quelli che non si sono generati nel nostro mondo ad esempio noi abbiamo il platino ma non l'oro potremmo trovare anche l'oro in queste casse a volte anche degli accessori adesso vediamo un po' abbiamo questa cassa di legno abbiamo trovato 19 minerali di piombo ok non molto buono purtroppo con quella di ferro abbiamo trovato ho la lama di falco un'ottima spada 9 pozioni di mana e 9 esca intermedia questo è già un'ottima un'ottima cassa vedete la nostra spada normale a 15 di danno e tra l'altro avete notato anche che l'arco di platino non ha rarità perché è bianco mentre lo spadone di platino siccome ha un modificatore negativo è sceso a rarità meno 1 di grigio proprio mentre altre cose con modificatori positivi possono essere rarità più alta quindi equipagiamo la lama di falco al posto della spadone di platino è una spada più piccola però una cosa che voi non potete rendervi conto se io tengo premuto la spada continuerà ad attaccare mentre fino adesso la spada di platino non lo faceva l'unica cosa è che come vedete non posso girarmi devo smettere di staccare il dito dal tasto e poi ripremere per girarmi però vale comunque la pena per sfruttare queste spigole possiamo iniziare a parlare anche dei cibi ce ne sono alcuni come esempio la frutta che cade dagli alberi a volte adesso possiamo fare una pentola ecco qua utilizzando il ferro o il piombo la posizioniamo e vicino alla pentola possiamo cucinare questo pesce sarà pesce cotto che dice piccole migliorie a tutti i parametri per 8 minuti tutti i cibi possono dare o piccole o medie o grandi migliorie a tutte le statistiche e anche il tempo è variabile in base alla realtà dell'oggetto posso anticipare che il cibo migliore probabilmente è la torta di zucche poiché è quello più facile da ottenere e che dà medie migliorie per 8 minuti per ottenere le zucche lo vedremo dopo aver sconfitto il primo boss poiché quello è il requisito per far uscire fuori il png driade che ci vendrà i semi di zucca che potremo piantare per terra però una cosa che non ho ancora detto è che durante il periodo di Halloween e durante il periodo di Natale a Terraria per un paio di settimane ci saranno cose diverse ad Halloween ci saranno i nemici vestiti da Halloween e si genereranno automaticamente le zucche quindi un buon momento per iniziare a giocare a Terraria anche durante la Natale ci sono cose simili per il momento utilizzeremo il pesce cotto ottimo siamo pronti abbiamo il pesce abbiamo le pozioni a utilizzare contro il boss un'altra cosa che potremmo utilizzare è potenziare le nostre frecce come vedete 10 frecce normali più una torcia fanno 10 frecce infuocate se invece la torcia è di ghiaccio faranno frecce da scottatura raggelante che sono più forti e al posto di applicare il fuoco applicano la scottatura del ghiaccio che è anche più forte utilizzando le stelle invece avremo la frecce da giullare qui non c'è scritto però quello che fa la frecce da giullare è penetrare i bersagli per il prossimo boss non ci serve quindi quello che faremo è questo utilizzeremo delle torce insieme a del ghiaccio per fare delle torce di ghiaccio e poi utilizzeremo queste torce di ghiaccio insieme alle frecce normali per fare frecce da scottatura aggelante siccome si va facendo notte vorrei affrontarlo di giorno e c'è anche un'arena da costruire ne approfitto per creare delle altre abitazioni con la 1.4 c'è un nuovo sistema di felicità e dei portali questo vuol dire che noi dovremmo costruire non solamente una sola casa dove contenere tutti i png ma ci conviene utilizzare piccole case da 2 o 4 abitazioni nei diversi biomi così i png saranno più felici se azzecchiamo le combinazioni giuste il che vuol dire che ci venderanno le cose a prezzo più basso e saranno in grado di venderci il portale il portale ci permetterà di teletrasportarci tra un portale e un altro se ci sono almeno due png vicini quindi capite che è molto importante però adesso per il momento faremo una grossa casa qua poi piano piano sposteremo i png ecco qui la casa è stata ampliata approfittiamo di questa notte per creare una piccola arena che è stata ampliata per creare Grazie a tutti. 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 Andrò velocemente e vi posso assicurare che siamo anche ultra preparati per questo, potremo anche affrontare l'altro di boss, quello per cui abbiamo già trovato l'evocabile, l'occhio di Cthulhu, ma lo lascerò a voi. Molte cose le sto mettendo ragazzi, ma se vi serve qualcosa di specifico potete sempre contattarmi attraverso il mio canale Discord. E già che ci sono faccio a meno di ricordarvi che ho un canale Twitch dove faccio le live, a volte anche Terraria e potete seguirmi anche su Instagram dove posto cose particolari, vabbè, quello che fanno tutti su Instagram insomma. E già che ci siamo a sto punto dico anche questo, se volete iscrivetevi, mettete i like, i commenti, quelle robe che aiutano i piccoli cafoncelli come me a crescere e avere un canale bello importante perché magari la passione quando... Comunque ciancio alle bande, andiamo alla corruzione e avrete capito che io dopo un po' smetto di essere... ci ho provato a essere serio ragazzi però... E qui ridendo e scherzando siamo arrivati al pizzo calabro. E ridendo e scherzando, ridendo e sterminando, altro che... Allora, torniamo a seri per un secondo, torniamo a cercare un altare del demone, qui a volte le buche della corruzione non portano nessuna parte, non ha portato con me delle bombe, in effetti potevo pensarci, però non fa niente, troveremo comunque un buco già aperto. Attenzione quando cadete, sempre per il danno alla caduta, io utilizzerò il rampino ma voi andateci con le corde con calma, insomma, non rischiate. Io ho trovato un altare del demone e come vedete ora posso creare la corona slime, evoca lo slime re. Uh, io ho trovato anche una cosa importantissima che è la zuologa. Per evocare la zuologa bisogna sbloccare 53 uscite del vestiario, sconfiggendo un nemico lo sbloccheremo per il vestiario, avvicinandoci a un animaletto lo sbloccheremo e interagendo con un PNG lo sbloccheremo. Ad esempio voi vedete che non ho l'infermiera. Se io adesso vado dall'infermiera e ci parlo anche solo una volta, magicamente compare qui. Quindi parlate anche con gli PNG. La zuologa è importante, vende alcuni oggetti abbastanza carini, insomma, nulla di estremamente particolare in realtà, però ti vende, anche se costa tanto, la frusta di pelle. Questa è un'arma da evocatore, è la prima arma che ti permette di attaccare come se fosse effettivamente una spada e le creature evocate a te si concentreranno sui nemici colpiti. Adesso io non ho i soldi necessari per acquistarla, però se ce l'avessi avrei sicuramente utilizzata, perché oltre ai 14 danni suoi fa anche 14 danni a eseguaci evocati. Quindi il mio uccellino, anziché fare 8, ne faceva 12 di danni, quindi è molto importante per l'evocatore. Ma adesso va bene così, quello che faccio adesso è premere il tasto B. Con il tasto B utilizzeremo tutte le pozioni che abbiamo nell'inventario, comprese anche il cibo. Ecco fatto, ne abbiamo consumato uno di ogni tipo, come vedete ecco qua i buff, ben nutrito, resistenza, velocità, rigenerazione e pre di ferro e qui c'è il countdown di quanto durano. Siamo prontissimi ed evochiamo il Reslime. Abbiamo una barra della vita, eccolo lì, lo vedo già. Questo è il primo boss. Il Reslime può teletrasportarsi verso la nostra posizione. L'infermiera si è trovata nel mezzo, poverina. E per man mano che prende danni evoca altri slime. Ecco qua, si è evocato qui. Aiaiaiai, possione di vita. Utilizziamo le nostre frecce di fuoco ghiacciato, insomma una cosa un po' strana. Come vedete possiamo anche colpire il boss con il debuff. Non sempre riusciamo ad applicarlo perché non è una possibilità al 100%, ma comunque. Fate anche attenzione a pulire gli slime che verranno evocati appunto dal Reslime. Ok, vediamo se riesco a sfruttare l'arena a mio vantaggio. A quanto pare sì. Ho fatto veramente le piattaforme un po' troppo alte, però vabbè, per me vanno bene. Voi fatele un pelo più basse. Potete anche farla molto più lunga all'arena e utilizzare anche più file di piattaforme. In realtà ve lo consiglio proprio, però. Ok. Il boss diventerà sempre più veloce e forte, ma man mano che prenderà danno. Oddio, forse solo più veloce. Come vedete, però, se avessimo avuto il doppio salto sarebbe stato molto più facile evitarlo, ma vabbè. Ho voluto anche mostrarvi che è possibile tranquillamente farlo anche senza. Ok, facciamo una cosa. Visto che sono tutti questi slime qua. Utilizzo il bastone e il fanone della penetrazione per levarli tutti. Ma comunque buona parte. Ok, il boss è bello che è andato. Non vi consiglio di affrontare i boss con così poca vita. Affrontate lui a 180 di vita, magari. Poi arrivate a 200 e così si genererà da solo l'altro boss di notte. Eccolo qua. Abbiamo preso anche qualche moneta d'oro. Una, vabbè. Anzi, due. Ottimo. Due monete e mezzo d'oro. Abbiamo preso un bel po' di soldi. Con i boss ne facciamo tanti. Adesso la Driade potrebbe uscire nel nostro mondo, quindi è buono anche quello. Allora, cosa abbiamo trovato? A parte corde che si è trovata da qualche slime, abbiamo la camicia ninja. Che aumenta il colpo critico, il 3%. È un set di armatura. Ogni volta le slime ci dropperà un pezzo dei tre. Ed è un'armatura che si basa sulla velocità e sui colpi critici. Non è di nessuna classe. Poi abbiamo il solidificatore che permette di ricavare oggetti. Principalmente utilizzando il gel e la pietra per fare blocchi. Nulla di particolare. E come bonus abbiamo l'uncino slime. Allora, il rampino, anzi. Gancio, vabbè. Tutti diversi si chiamano. Con lo di smeraldo purtroppo è meglio. Quindi ignoreremo lo slime, l'uncino slime. Che però comunque è buono. Per carità. Allora, stiamo utilizzando tutte le classi. Ma una volta che raggiungerete un'armatura, degli accessori che potenziaranno una classe in particolare. Iniziate a fare prevalentemente quella. Ma andando avanti nel gioco vi renderete conto che sarà sempre meglio utilizzare solo un tipo di classe. Quindi piano piano vi specializzerete e vi consiglio di utilizzare la classe di cui droppate la miglior cosa. E magari cambiate se va male, non c'è problema. Dopo aver sconfitto questo boss del giorno. Attenzione che c'è quello di notte. Ma a questo punto vi consiglio di iniziare a raccogliere tanti cristalli di vita e di mana. Magari il mana, se non usate il mago, non vi servono. Terzo boss è quello di bioma nemico. Dopodiché otterrete i materiali per creare un piccone molto importante. Che vi permetterà di progredire più avanti nel gioco. Attraversate la giungla, c'è un boss opzionale ma vi lo consiglio poiché dà dei premi molto forti. Dopodiché esplorate il dungeon e lì ci sono accessori e armi molto forti. In particolare cercate anche una chiave che vi permetterà di attivare i loot dell'inferno. A questo punto vi ricatevi lì scavando fino in fondo. E dovrete essere un po' creativi per trovare il boss degli inferi. A questo punto uno penserebbe che il gioco è finito ma in realtà questa è solamente la prima parte. Tutta questa parte del gioco che vi ho raccontato si chiama pre-hard mode. Cioè prema della modalità difficile, hard mode. Infatti una volta sconfitti tutti questi boss e avremo a questo punto esplorato praticamente tutto il mondo. Tutto cambierà. Si creerà un nuovo bioma. Il bioma nemico diventerà ancora più forte e contaggerà molto più rapidamente. Ma soprattutto i nemici saranno molto più forti da questo punto in avanti. E se ne genereranno di nuovi versioni più forti alternative di quelli vecchi. Come i pipistrelli, gli scheltri o gli zombie. Da lì la progressione è più semplice da seguire. Poiché alcuni indizi del gioco vi faranno capire quale boss affrontare dopo e quale prima. E vi diranno cosa fare se sostanzialmente. Facciamo però un piccolo accenno alle resource pack e alle mod. Attraverso Steam avete Terraria. Questo ovviamente funziona solo da PC. Potete aprire il workshop. E qui troverete tutti quanti i vostri file che volete. Adventure World, Mondi e resource pack. Queste sono le uniche cose che si possono scaricare per Terraria normale. Se volete le mod, dovete scaricare T-Mod Loader, ma ci arriviamo più tardi. Per quanto riguarda il gioco normale, possiamo solamente utilizzare appunto i mondi. Possiamo scaricarli e caricarli. Per quanto riguarda le resource pack invece, queste possono modificare solamente tre cose del gioco. Le sprite, e quindi le texture pack. Le musiche, nelle music pack. E le varie scritte che ci sono nel gioco, quindi i language pack. Nella sezione developer's choice avete le scelte degli sviluppatori. E potete qua anche filtrarli per più popolari, sottoscritti, più recenti. Oppure potete semplicemente cercarli qui sotto Terraria. Per farvi un esempio vi mostrerò una delle mie resource pack. Quindi andrò a fare il che ho pubblicato. Questo è Better Tool Tips. Questo è un resource pack che funziona per la lingua inglese solamente. E sistema un po' alcuni tool tips del gioco. Cioè le scritte dando informazioni più precise e a volte anche correggendo quelle sbagliate. Ho ad esempio qui, per quanto riguarda il Brain of Confusion, ho messo la percentuale precisa di possibilità di creare illusioni e scrivere un attacco. In realtà sarebbe 16,66 periodico, però vabbè. E ho anche aggiunto il fatto che il Brain of Confusion fa anche danni da evocazione. Nei prossimi 30 secondi dovrà essere scrivato un attacco. Infatti avremo più 10% di attacco critico e danno da evocazione. Questa cosa non era scritta nel tool tipico originale e l'ho aggiunta. Avete la descrizione qui con tutte quante le feature principali. Ovviamente non avete i controlli del proprietario, chiaramente. C'è anche il link sul mio YouTube, in questa pagina. Qui avete le note di rilascio, tutti quanti gli aggiornamenti. Ok, allora, come fare per installare? Basta cliccare il tasto da sottoscrivi. Molto semplici, io adesso non lo farò perché essendo i file sul mio computer non ne ho bisogno. Ma vediamo subito adesso come funziona. Potete usare il pacchetto di risorse che avete già cliccato il tasto sottoscrivi dal workshop oppure pubblicare un pacchetto di risorse. Lasciamo perdere le pubblicazioni, chiaramente. Se clicco sul portamondi non trovo nulla. Questo perché io non sono iscritto a nessun mondo, quindi non posso importarlo. Invece uso pacchetti risorse e sono iscritto a tre mod in particolare. Tre hanno il simbolo di Steam, che l'ho infatti preso dal workshop. Sono Colored Buff Pack e un paio di texture pack ufficiali di Lazur e G-Man, che sono G-Mern, vabbè, che sono due degli sviluppatori di Terraria. Come vedete questi non hanno il simbolo Steam, ma non vi preoccupate perché sono semplicemente i file che ho sul computer e sono Better Tooltips di quello di cui vi ho appena parlato. E sto lavorando al momento della traduzione italiana alternativa. Il momento della registrazione non è ancora pronta, ma lo sarà dal momento che uscirà questo video. Quindi in descrizione ci saranno i link sia a Better Tooltips che alla traduzione italiana alternativa. Quindi, ora, inseriamo Better Tooltips, torniamo indietro, aspettate che si carichi tutto. Chiaramente il mio resource pack ha a che fare con la lingua inglese, quindi mettiamo il gioco in inglese. E a questo punto consiglio anche di spegnere e riaccendere il gioco per assicurarsi che la resource pack sia stata correttamente selezionata. Se invertite le lingue e il gioco è ancora acceso, non sempre si attivano, quindi mi raccomando controllate questa cosa. Per quanto riguarda le mod, invece, c'è un launcher separato che potete scaricare, penso, gratuitamente se avete Terraria. Ed è T-Mod Loader. Non era ufficiale, adesso l'ho diventato ufficiale. Funziona allo stesso modo. Questo è praticamente uguale a Terraria, ma ti genera una versione in cui possiamo utilizzare le mod. Le mod possono cambiare non solo lingua, musiche e sprite, ma possono anche cambiare molti fattori all'interno del gioco, come aggiungere nuovi mostri, aggiungere nuove armi, cambiare le statistiche e così via. Allo stesso modo andiamo sul workshop e funziona esattamente alla stessa maniera. Quindi avete qua la lista di quality of life, tweaks, new content, più sottoscritti, più recenti, fate come volete, insomma. Al momento della registrazione non è ancora pronta la versione T-Mod Loader della 1.4, c'è solo la versione 1.3.6, ma c'è, come vedete, la versione alpha della 1.4. Ci stanno ancora lavorando, quindi io personalmente aspetto che sistemi tutta quanta la versione alpha. In ogni caso possiamo cliccare una mod qualsiasi, anche qui il metodo è lo stesso, basta sottoscriversi, avete notato di rilascio. E in particolare qui sotto il creatore dovrebbe esserci una lista di mod che sono necessarie per far funzionare questa mod. In tal caso dovete sottoscrivervi a tutte quante quella lista e al mod stesso. In questo caso non ce n'è nessuna, però se vi capita fatelo. Per attivare l'alpha della 1.4 dovreste andare sul Discord di Terraria, è un processo un po' complicato, vi consiglio di vederlo per conto vostro, anche se, ripeto, in realtà il consiglio che vi do è aspettare che ci sia una versione più stabile, perché ho saputo ci sono alcuni bug che potrebbero crasharti tutto quanto il gioco, il mondo e perdere i salvataggi, quindi per il momento io direi aspettate che si aggiorni T-Mod Loader. Poi il procedimento è lo stesso, attraverso il gioco potete selezionare e deselezionare i vari mod come se dovessete spostare delle resource pack. Fino a questo punto il gioco è stato abbastanza simile a Minecraft, però già l'idea di avere un rampino e gli oggetti di corsa e questo primo boss vi ha fatto capire che in realtà c'è molto da esplorare e vi voglio dare una piccola anticipazione di come saranno le cose alla fine del gioco. Ecco tipo, non so voi, però le cose diventeranno molto diverse appena iniziate a giocare, quindi sì, ecco, diciamo che il gioco è molto diverso. Questo sta vedendo adesso il mio mondo principale nella modalità viaggio, di cui non avevo ancora parlato. La modalità viaggio è una modalità facilitata in cui avremmo più accessori e strumenti all'inizio della partita e la difficoltà sarà impostata più facile della modalità classica. Questo mondo viaggio io ho già completato il gioco più volte e come dite anche nel mio personaggio ci sono anche molte opzioni di customizzazione e di personalizzazione del personaggio. Io per esempio ho fatto una piccola galleria con le mie creazioni preferite, certo la terza, questo l'ho già prefatto, però le altre le ho fatte io, ci sono anche di vari colori. Quindi potete decidere di giocare nella modalità viaggio o come modalità facile, perché di fatto sarà più semplice nella modalità classica. Inizieremo con strumenti di ferro anziché di rame e anche alcuni strumenti come delle ali. Inizieremo con delle piccole ali che ci permetteranno di completamente ignorare il danno da caduta, ci daranno una piccola possibilità di salto, volo e di planare. Oppure potremo utilizzare la meccanica principale del viaggio, che è la meccanica della ricerca. In poche parole nella modalità viaggio avremo questo tasto in più, questo coniglio con l'elmo e si chiama il menu di potenza. Da qui potremo decidere molte cose come cambiare il giorno, la mattina, la sera, aumentare anche la velocità del tempo o bloccarlo permanentemente. Possiamo scegliere le condizioni meteorologiche, possiamo anche scegliere quanti nemici escono fuori, anche 10 volte di più e scegliere anche la modalità di difficoltà e possiamo quindi spostarla da viaggio anche a classico, esperto o maestro. Tra tutte queste opzioni, quelle più importanti è quello del menu di ricerca. Travite il menu di ricerca potremo sbloccare gli oggetti permanentemente. All'esempio dopo aver dato alla sezione ricerca 99 blocchi di legno, potremo andare nel menu di duplicazione, cercare il legno e ce l'avremo infinito. In poche parole la modalità viaggio può essere utilizzata sia come una modalità più facile, sia come una modalità creativa. Infatti è una via di mezzo, una volta avrete sbloccato praticamente tutti gli oggetti, come vedete, io ne ho sbloccati quasi tutti, non ancora tutti, però come vedete abbiamo tutti gli oggetti a disposizione e possiamo invocarli a piacimento, quindi è di fatto come una modalità creativa. Ma ogni singolo oggetto dovrete ricercarlo per conto vostro, come vedete ce ne sono parecchi a Terrari. Una cosa importante da dire però è che mentre tutti i personaggi classici, hack, esperti o maestro possono viaggiare attraverso i mondi a piacimento, i personaggi di tipo viaggio possono solamente appartenere a mondi di tipo viaggio, questo perché ovviamente sarebbe un po' troppo facile, finire il gioco in modalità viaggio con l'invulnerabilità e poi spostare gli oggetti forti negli altri mondi, ma per il resto i personaggi possono spostarsi come vogliono. La modalità esperto infatti ha degli oggetti in più, ma se non li sblocchiamo possiamo poi anche portarli nei mondi non esperto, ma tutta la roba che ha a che fare con i mondi viaggio è solo giocabile con i personaggi viaggio. Già che ci sono vi mostro anche la meccanica dei portali, come vedete qui c'è un portale, basta cliccare col tasto destro, e possiamo aprire la mappa, come vedete questa è bella che è esplorata, e abbiamo tutti i vari portali che ho già posizionato e che ci posso teleportarsi sopra. Vado ad esempio in quello della neve, come vedete che ho creato una costruzione in cui ci sono almeno due png e se così sono felici ci venderanno il portale, in questo caso il mercante non ci venderà il portale perché il mercante non è amante della neve, infatti se noi andiamo nel bestiario e clicchiamo sul mercante ci darà che a lui piacerà la superficie, in questo caso si tratta di foresta. Il meccanico invece ama la neve, ma comunque non ci venderà il portale, questo perché non conta solo il bioma d'appartenenza, ma conta anche il numero di vicini, in questo caso 4 vicini sono troppi, il numero ideale è 2, e i vicini si devono anche piacere tra di loro. Nuovamente non vi spiegherò oltre perché ho già messo in descrizione nelle schede il link al tutorial che ho fatto che potete visitare in qualsiasi momento. A questo punto ragazzi penso di avervi detto più o meno tutto, ci sono tante cose che lasciamo a scoprire, tante altre ve le ho già fatte un pochino vedere in questa notte da viaggio solo per darvi un'idea di quanto le cose cambino effettivamente da un certo punto del gioco, rendendolo effettivamente piuttosto diverso rispetto a Minecraft. Spero che questa guida vi sia stata d'aiuto, io vi rinnovo l'invito al mio server Discord, il link in descrizione, potete seguirmi anche su Instagram, su Twitch e ovviamente qui su YouTube chiaramente. Sapete come fare, non ve lo sto a ripetere un'altra volta, quindi grazie per avervi visto. Ci sentiremo presto con un nuovo continuo di Sotterraria. Sotterraria 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 Sotterraria